Certo, potremmo fare Sky e Fastweb eventieri, però Fastweb non ci torniamo perché non l'hanno fatta, è vero? Eh? Registrando tesoro, no, non ci torniamo. Ah, scusa. Oh, giusto, bisogno di un uomo tutto fare, in caso di questa è quasi deludio, è vero, 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 è vero. Oh, giusto. 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 Grazie a tutti.